Illusione e disillusione, definizioni che sono irreversibili, necessarie e collettive e che emergono in maniera evidente e palese in un'esposizione collettiva, ELECTA, che ha aperto i battenti il 27 luglio presso il Palazzo delle Videoconferenze della Facoltà di Scienze Politiche di Spinetoli. 13 artisti per una mostra di arte contemporanea giunta ormai alla sua terza edizione e votata quest'anno ad indagare il tema dell'illusione, fra le opere più singolari, quelle di Giulia Corradetti, che lavora con la gomma piuma colorata alla quale poi affianca nelle fotografie alcune piante grasse. Un contrasto, quello fra il morbido e lo spinoso, al quale si aggiunge anche lo scontro fra naturale ed artificiale. Degna di nota anche l'opera di Elena Nonnis, che intreccia trame di fili su tessuti di grandi dimensioni. Interessanti anche le creazioni di Francesca Casolani, che alterna il collage alla pittura, lavorando ancora sul tema delle marionette. Nella mostra poi svettano anche i colori di Maranitti, opere pop che descrivono la vita marina al molo. Massima soddisfazione per l'assessore alla cultura di Spinetoli, Carlo Damiani, che sottolinea la necessità di creare spazi in cui gli artisti stessi possano presentare le loro opere ai visitatori. Le persone provano un'emozione vedendo un'arte, ma quando poi incontrano l'artista magari provano un'altra emozione completamente diversa. Quindi in due momenti. L'artista è anche contento di questo, perché sa che cosa ha voluto trasmettere, poi vede che cosa è arrivato, e è un modo di dialogare e di arricchirsi. La collettiva, a cura di Alessandra Morelli e con il coordinamento di Nazareno Luciani, resterà allestita fino al 9 settembre, un'occasione per i tanti turisti che visitano il Piceno in estate per scoprire Spinetoli e per godere dell'arte contemporanea fra le suggestioni del paesaggio.